ciao il corso è finito oggi abbiamo fatto i racco che è una composizione radiale cioè che si espandono i rami verso il lato sono state 10 persone sono molto contento dalla prossima lezione del 4 febbraio ci saranno due turni 1 alle 2 e 1 alle 4 e mezza in modo tale che tutte le persone possono lavorare in modo un pochettino più tranquillo adesso vediamo tutte le composizioni fatti dagli allievi ciao a presto ciao 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 ciao